Bisogna essere onesti, trovare un tablet Android da circa 200€ che funzioni bene, che abbia un bel display e che sia anche costruito decentemente non è affatto facile. Proprio per questo ho voluto provare il nuovo Blackview Tab 15 Pro perché in passato i tablet di questo brand mi avevano convinto e questo mi ha convinto ancora di più. Copriamo tutti i dettagli nella recensione completa dopo la sigla! Iniziamo anzitutto col dire che Blackview è famosa per produrre dei prodotti di buona qualità venduti a un prezzo molto interessante, un po' come la Xiaomi dei primi tempi. Nel corso degli ultimi anni ho provato diversi loro dispositivi, questo non è un video sponsorizzato quindi è una recensione 100% onesta e ne sono rimasto sempre contento. Anche questo Tab 15 Pro è soddisfacente e partiamo già bene a partire dalla confezione. All'interno della scatola di vendita che è insomma abbastanza classica, niente di particolare, troviamo una dotazione di accessori particolarmente completa che comprende oltre ovviamente al tablet, una bella cover in silicone a libro che ci permette sia di proteggere il tablet che di utilizzarla come stand per tenerlo in verticale. Troviamo anche una pellicola in vetro temperato che onestamente ho deciso di non applicare, però comunque se volete proteggere il display la pellicola c'è. Un caricabatterie da 18 Watt con porta USB e relativo cavo per la ricarica. Oltre a questo troviamo anche una penna con un punterolo abbastanza anomalo, è di fatto una penna con una punta piatta. Serve qualche giorno di ambientamento per capire come funzioni, come utilizzarla e come impugnarla, niente di trascendentale, una penna abbastanza classica che non ha livelli di input, di pressione o quant'altro. Funziona bene se avete le dita grosse o se siete un po' impacciati oppure se volete eventualmente fare qualche firma digitale su dei documenti. Parliamo un po' della costruzione che è uno degli aspetti che mi ha più convinto. Il design è anzitutto molto minimal, molto pulito, non ci sono fronzoli, non ci sono cagate in giro, inutili, c'è tutto quello che serve al posto giusto. Per quanto riguarda la costruzione, come vi dicevo, ottima qualità, tutto costruito in metallo che dona un bel feeling sia visivo che alto con dispositivo, quindi ben costruito, che mi è piaciuto. Oltre ad essere ben costruito ha degli elementi ben disposti, troviamo sul lato superiore tasto di accensione e spegnimento, bilanciere del volume, sullo retro fotocamera con led, poi sui due lati corti troviamo 4 speaker quad box stereo di buona qualità, una porta USB-C, un jack audio da 3,5, sempre il benvenuto, poi frontalmente troviamo un'altra fotocamera e un led di notifica. Sotto il punto di vista costruttivo è quindi davvero ben fatto, si lascia ben impugnare grazie allo spessore ridotto di soli 7,3 mm, pesa circa 500 grammi e quindi ha una buona ergonomia e si lascia impugnare ed utilizzare senza difficoltà e senza mai pesare troppo quando siamo sul divano e stiamo cazzeggiando. Parliamo un po' di hardware, al suo interno c'è un processore che non ho onestamente mai sentito nominare, è un processore Unisoc T606 Octa-Core, ci sono poi 8 GB di RAM espandibili virtualmente a 14 e 256 GB di memoria interna espandibile tramite il carrellino per la microSD di un ulteriore terabyte. Per quanto riguarda RAM e memoria interna direi che siamo tranquillamente a posto, il processore è forse un po' il collo di bottiglia di tutto quanto il comparto hardware, è forse l'unico vero difetto di questo display. Le prestazioni non sono mai esaltanti, tutto quanto funziona bene, tutto abbastanza fluido, tutto abbastanza scorrevole quando facciamo un utilizzo di base del tablet. Se però poi andiamo a spingere un po' di più sul gaming, magari proviamo a fare foto, video editing o apriamo più app contemporaneamente, il processore si fa un po' sentire, però onestamente lo trovo un compromesso accettabile per riuscire a fornire un tablet con un prezzo di 200€. Per quanto riguarda gli altri aspetti hardware, ottimo il comparto connettività, wifi, bluetooth, due sim 4G con la possibilità di utilizzare una nano sim ed una microSD oppure due nano sim contemporaneamente. Potete anche effettuarsi le chiamate, quindi è un tablet sotto il punto di vista della connettività completo. C'è anche un sistema di navigazione GPS ben funzionante, la compatibilità con Android Auto, LED di notifica di cui vi parlavo prima ed il supporto all'USB OTG, quindi potete eventualmente collegarsi a hard disk esterni, tastiere mouse e trasformarlo in un piccolo computer. Non male poi come vi dicevo il quadruplo speaker stereo che funziona bene, non è un buon volume massimo, più che sufficiente per guardare un film o una serie tv o ascoltare un po' di musica senza problemi e senza aver la necessità di collegarsi in una cassa bluetooth esterna. Parliamo un po' di display che è uno dei punti più convincenti. Abbiamo un bel display da 10,5 pollici con risoluzione full HD+, da 1920x1200 pixel. Ha una luminosità massima di circa 360 nits che non è un valore elevatissimo, però nel complesso secondo me questo è un bel display. Ha dei colori ben tarati, una luminosità comunque più che sufficiente che ci permette di utilizzarlo sia all'esterno che in ambienti molto luminosi senza particolari problemi. I colori sono ben tarati e l'utilizzabilità sia per quanto riguarda l'utilizzo standard del sistema che in gaming che in streaming è soddisfacente e lo schermo devo dire che mi è piaciuto soprattutto se andiamo sempre a tenere in considerazione il prezzo di vendita del prodotto. Lo schermo solitamente nei tablet cinesi è uno dei punti più problematici relativamente, per farvela molto breve, al fatto che mancano delle certificazioni Widevine L1 che permettano di effettuare lo streaming dei contenuti in alta risoluzione. Molti tablet cinesi hanno il Widevine L3 quindi tutti i contenuti sono sgranati brutti da vedere, qui troviamo una via di mezzo. C'è un Widevine L1 non compatibile con tutte le applicazioni quindi potete godervi in Full HD, Disney Plus, Prime Video, tante altre applicazioni ma ad esempio non funziona su Netflix. Quindi per lo streaming funziona molto bene con le applicazioni compatibili, con le altre funziona altrettanto bene ma dovete accontentarvi di una risoluzione un po' più bassa che rende comunque i contenuti godibili ma insomma un po' meno pregiati dal punto di vista visivo. Prima di parlare dell'esperienza d'uso parliamo velocemente delle fotocamere, i tablet non sono fatti per fotografare quindi se vedete una persona che va in giro e fa delle foto con un tablet probabilmente non ha capito cosa ha comprato. Comunque tornando a noi, fotocamera posteriore da 13 megapixel sufficiente diciamo per una foto fatta al volo, per fare la scansione di un documento, per inquadrare un QR code funziona bene, fa il suo dovere, niente di trascendentale. Poi frontalmente invece fotocamera frontale di Samsung da 8 megapixel che funziona bene, ci promette di fare delle videochiamate e dei selfie di qualità più che sufficiente e poi ci consente anche di utilizzare il riconoscimento facciale per lo sblocco del dispositivo. Ma andiamo un po' più sul concreto e parliamo di come va e di esperienza di utilizzo. Anzitutto va detto che il sistema operativo è basato su Android 12 con la personalizzazione di Blackview che si chiama DocOS P3.0. Di fatto è una versione molto simile ad Android Stock quindi all'Android pulito che troviamo sui tablet di Google con l'aggiunta di qualche personalizzazione qua e la grafica è relativa alla privacy. Non ci sono tante applicazioni preinstallate quindi trovate un software pulito prestazionale più che sufficiente. Nell'utilizzo quotidiano devo dire che mi ha soddisfatto, nel tempo libero si comporta molto bene in navigazione, per le applicazioni, per i social, per tutto quello che riguarda il cazzeggio e l'utilizzo nel tempo libero si comporta in maniera soddisfacente, le applicazioni si aprono, funzionano bene, non ci sono mai intoppi, rallentamenti o ritardi particolari che vanno a rovinare la nostra esperienza utente. In gaming dipende un po' da quanto spingete sulle prestazioni però se riducete un po' le pretese, il lato grafico sicuramente riuscite ad avere un'esperienza più che godibile. E poi c'è la vera chicca per chi vuole utilizzarlo per studiare e lavorare che è la modalità PC. Lo trasforma in un PC portatile simile a Windows o a Chrome OS, ci permette di avere un'interfaccia molto simile a quella di un computer, di avere due, quattro o più finestre a schermo e quindi di utilizzarlo per lavorare o per studiare più documenti aperti o più applicazioni e aperte contemporaneamente e devo dire che in questo settore secondo me ha trovato un punto di svolta perché grazie proprio a questa modalità riusciamo a trasformarlo in un piccolo PC e a dargli delle funzionalità in più e a migliorare l'esperienza di utilizzo che va oltre quindi alla semplice modalità di utilizzo nel tempo libero che facciamo tutti quanti dei nostri tablet. Quindi proprio grazie a questa modalità PC riusciamo anche ad utilizzarlo per qualche scopo professionale in più con soddisfazione. Per quanto riguarda tutto l'utilizzo quotidiano, giornaliero, lavorativo e per lo studio devo dire che si comporta molto molto bene e ne sono rimasto molto contento. Sono rimasto molto contento anche della batteria, 8.280 mAh di capacità, ci fate tranquillamente 10-12 ore di schermo acceso senza particolari problemi. La ricarica è un po' lentina, 2 ore e mezza circa per una ricarica completa utilizzando il carico batteria in confezione ma nel complesso un'autonomia più che soddisfacente e che è andata onestamente anche oltre a quelle che erano le mie già alte aspettative per i tablet di Blackview. Prima di concludere parliamo un attimo di prezzo e vi giro una piccola chicca per voi fan di Out of Beat e per tutti gli altri che non sono fan ma che stanno vedendo questo video. Il tablet viene venduto a 239 euro su Amazon per la quasi totalità dell'anno. È disponibile con un coupon sconto di 50 euro quindi potete portarvelo a casa a 189 euro ma fino all'11 giugno potete utilizzare il coupon che vi lascio qui sotto in descrizione per un ulteriore sconto del 7% e quindi portarlo a casa a circa 180 euro che è davvero tanta tanta roba. Comunque a 189 euro questo è davvero un best buy perché è assolutamente un tablet completo. Andando quindi a concludere il Blackview Tab 15 Pro secondo me potrebbe essere definito il migliore tablet economico da circa 200 euro perché è ben costruito, ha delle prestazioni sufficienti bene o male in quasi tutti gli ambiti di utilizzo. Ha un bel display e poi ci mette anche a disposizione una dotazione di accessori completa che ci garantisce di non dover affrontare spese extra nel corso dei mesi successivi perché la cover c'è già, il caricabatterie c'è già, la pena c'è, la pellicola c'è quindi voi comprate il tablet e di fatto siete a posto. Nella fascia sotto i 200 euro è assolutamente consigliato a tutti quelli che stanno cercando un tablet Android economico per studiare, lavorare oppure semplicemente da utilizzarla nel tempo libero per un po' di sano svago. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così non dimenticate un bel mi piace qui sotto e l'iscrizione al nostro canale. Vi lascio qui sotto in descrizione il link per l'acquisto su Amazon con il codice sconto di cui vi parlavo prima e poi anche la recensione testuale completa con tutti i dettagli tecnici in più che non sono riuscito a raccontarvi e ad annoiarvi ulteriormente in questo video. Da Vittorio Tiso per Out of Beat è tutto, grazie e alla prossima!